Per uscire da alcune emergenze, penso all'emergenza dei rifiuti, incominciamo a ridurre la produzione di rifiuti, secondo quanto ci dice tra l'altro l'Europa, incominciamo a ridurre la quantità di rifiuti che vuol dire incominciamo per esempio a comprare, faccio un esempio, i prodotti sfusi, tranne quelli che ovviamente hanno delle limitazioni genico-sanitarie, ma possiamo incominciare a comprare con poco packaging o a zero packaging e questo è importante come fatto, su questo io mi sto spendendo e con la finanziaria a farsi, la legge di stabilità a farsi, sto cercando anche di intervenire per aiutare il consumatore in questo senso.